terra è un prodotto che nasce da terra seccata messa per terra in un villaggio ok dipinta perché non mi piaceva il colore naturale della terra abbiamo dipinta i colori sono quattro due più caldi che sono il rosso e l'ocra due più freddi che sono l'argento e il bp che il blu di prussia il prodotto si può utilizzare da solo vedete questa è una caffetteria normalissima col rosso quindi potrebbe essere un cotto questi sono i formati vedete rosso e ocra guardate che bello in combinazione con il marmo questa è la cucina in cui il pavimento è di rosso e il rivestimento è marmo per me elegantissimo iscriviti al canale iscriviti al canale